se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati regà qua è savix che vi parla allora ragazzi vi voglio portare questo video è un video simpatico per divertirvi fare rp ragazzi e qualche spicciolino per chi magari inizi e vuole divertirsi vuole fare le statistiche aumentare la mira, la forza ecc quindi ragazzi andiamo subito sulle attività missioni sopravvivenza e andiamo a prendere quelle nuove del progetto 0457 cazzi eccetera 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 praticamente raga quelli degli ufo quelle nuove che ci sono questa settimana che hanno anche rp doppi quindi approfittatene fino a che ci sono perché sennò poi non serviranno più a niente pagheranno veramente poco quindi non vi resta altro che entrare nella lobby ragazzi con un vostro amico tutti gli amici che volete ragazzi quello lo lascio scegliere a voi e una volta che siete all'interno della lobby dovete semplicemente andare in questo punto della mappa raga e con la pistola automizer dobbiamo spostare i bagni chimici in modo tale da metterli un po' come scudo ora vi velocizzo la clip vi faccio vedere ragazzi che alla fine non avendolo mai fatto in due così divertendoci siamo arrivati velocemente alla settima ondata poi triple è rimasto chiuso nei bagni e adesso vi faccio vedere la clip ragazzi è una cosa allucinante penso che non succederà mai più a nessuno una cosa del genere comunque come ben vedete una volta nascosti là dietro non ci romperà il cazzo a nessuno saremo belli coperti e potremmo farci tutte le ondate e niente ragazzi questo invece è il giuse io sono morto perché ero uscito per sistemare un attimo i bagni per capire un pochettino bene la posizione di come mettere sti cosi regà e giuse io sono morto non si sa come è riuscito raga a infilarsi qua dentro e poi dopo un botto di tentativi di cose varie finalmente con la pistola automizer è riuscito a spararsi sotto le gambe e si è spaggato ha continuato ancora una ondata dopodiché da solo regà è praticamente morto perché è difficilissimo io spero che questo video vi sia piaciuto regà lasciate un like lasciate un commento supportate Xavix se trovate altri chiamiamoli così bug per fare le sopravvivenze scrivetemi in privato vi citerò nel video e porteremo insieme questo contenuto io vi saluto e alla prossima ciao